Storiesia numero 6 Camminavo lungo la solita strada, incontravo sempre le stesse persone. Perché? mi chiesi. Perché facevo sempre la solita strada. E se cambiassi tragitto? Questo sentiero è sicuro. Prosegui di qui, diceva la mente. Il cuore prese il sopravvento e cambiai strada. Ero spaventato. Mi sono smarrito, bruciato, arrabbiato, abbattuto. Ne è valsa la pena? Cuore mio, perdonami per non averti ascoltato prima. Quindi, in sostanza, perché ci accade sempre la stessa cosa? Perché ci capita sempre la stessa situazione? Perché facciamo sempre le solite cose. E questa cosa spaventa? Il cambiamento spaventa, ma è la soluzione. Bisogna cambiare quello che facciamo. Se vogliamo dei risultati differenti. Quando chiediamo qualcosa all'universo, ricordiamoci che a lui piace usare il percorso di minor resistenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci metterà in circostanze che non ci piaceranno. Ci farà incontrare persone che probabilmente non capiremo. E ci farà fare cose che non avremmo mai pensato di fare. E tutto questo perché l'universo ci dà solo ciò per cui noi siamo pronti. Perciò, attraverso queste situazioni, noi possiamo crescere e finalmente arrivare dove vogliamo. Un altro consiglio che voglio darvi è non tornate indietro. Non ripercorrete sempre la stessa strada. Perché sapete già cosa c'è. Ok? Sapete già che alla fine di quella strada c'è la delusione. Perciò, non abbiate paura. Se le cose sembrano caotiche, è giusto. Vuol dire che è la strada giusta. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate.